eccoci qua con marco bombaci della bedium oggi una vittoria importante visto che l'inizio non era stato granché che cosa ne pensi della partita che avete giocato si oggi era importante vincere per per muovere un po la classifica per per ridurre il distacco con le squadre che avevano vinto nella prima giornata e oggi è stata una partita maschia dura come come lo saranno le altre abbiamo abbiamo approfittato il fatto che siamo partiti subito bene andando avanti sul 2 a 0 poi loro sono rientrati e ci siamo difesi abbastanza bene soprattutto grazie anche alle parate del nostro portiere matematico e per quanto riguarda lo stato di forma secondo te che cosa è cambiato rispetto alla prima partita sia mentalmente che fisicamente forse stavate meglio oppure è stato un caso la prima la prima sconfitta alle soli secondo me è tutto è un fattore di conoscenza di conoscerci e per la prima volta giocavamo insieme la scorsa domenica durante la settimana ci siamo parlati ci siamo chiariti su quali ruoli andavamo a fare sulla sui cambi e tutto il resto e c'era molto più compatte rispetto alla prima la prima giornata quindi questi punti importanti ora in un girone che comunque prevede possibilità di recupero visto questa nuova formula sei squadre dico vi darà più tranquillità per le partite successive e per il proseguo del torneo tranquillità relativamente perché ogni domenica qui sono delle finali un no massacro no perché che belle belle giocate ci da più convinzione in vista delle delle restanti giornate Grazie a tutti Grazie a tutti